Un saluto a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale Oggi continuiamo la carriera natura di FIFA 23 E siamo arrivati agli ottavi di finale Contro il Dortmund al ritorno Dopo un'andata scriptata, buggata, piena di momentum Dove abbiamo perso la bellezza di 6 a 5 ragazzi Noi facevamo un gol e loro subito facevano un altro Nell'azione successiva Un passaggio, un tiro, un gol Tutta così ragazzi, gol così Ci ritroviamo alla BVB Dortmund Arena Mamma mia, il Signula Park Come cazzo si chiamava questo stadio? BBB Stadium Dortmund Vabbè, hanno cambiato nome Il Muro Giallo Ragazzi Che coreografie Non fa ragazzi, non fa Bellissima, complimenti, veramente bello Il Dortmund ragazzi Mi è rimasto nel cuore Intanto questo è il calendario La Roma 2 a 0 contro il Chelsea La Juve 1 a 0 contro l'Arsenal E noi dall'altra parte se riusciamo a passare Troveremo un squadro Insomma Boh, raga, poco conosciute Non si sa Vabbè Forse è voluto così Tanto saltiamo E iniziamo Il ritorno Degli ottavi Dei quarti Scusate Avevo detto ottavi anche prima Forse Sono i quarti Raga Sono sfatto Ho un leggero mal di gola Raga Sono tornato dal viaggio Dove c'era Un fresco Che voi non avete idea Mamma mia Marcus E forse Questo sbalzo termico Perché sono passato Dai 16 gradi Che c'era una Gothenburg In Svezia Raga Ai 45 Che ci sono qua In Sardegna Quindi è possibile Che mi abbia Seccato la gola Con tutto questo sbalzo Termico E sono un po' sofferente A parte che non tocco FIFA Raga Da un paio di giorni Quindi ho paura Anche di come potrebbe finire Non ci credo Di come potrebbe finire Questa partita Lo scopriremo solo vivendo Intanto Vabbè raga Che cosa facciamo Lo sapef Mamma mia De Gea Cosa mi ha tolto Raga Errore mio Errore bruttissimo Di Richard Mamma mia Abbiamo rischiato qua Me lo meritavo qua il gol Me lo meritavo tutto Ragazzi Ormai ci siamo Siamo arrivati Agli sgoccioli Della carriera Allenatore In campionato Siamo solamente Siamo solamente a più 10 Di vantaggio Ancora mancano forse 8 partite Cazzo che passaggio Mamma mia Raga Che passaggio Filtrante E va a concludere Bellingham Faglielo vedere il nome Faglielo vedere Mamma Ma chi era Sancio Che palla Che palla Che palla che gli ha messo Raga Mamma mia Di prima Subito Un tiro Un gol Dai cavolo Raga Dai Adesso stiamo attenti Stiamo attenti Perché Può succedere di tutto Fanno un passaggio Arrivano in porta Questi Stiamo attenti No Era cosa intercettata Quella Bravo Chi è Casemiro Oh mio dio E' buona E' buona E' buona E' buona E' buona Che bella Questa esultanza Come cazzo ho fatto Non lo so Raga Ho scacciato a merda Marcus Rashford E siamo 2 a 0 Mamma mia Raga Pensavo di sbagliarlo Mamma Mamma mia Pensavo di sbagliarlo Oh mio dio Ragazzi Non mi devo illudere No Devo stare calmo Devo stare calmo Non mi voglio illudere Perché può succedere di tutto La partita è appena iniziata Siamo solamente al 25esimo Quanto siamo? Raga Piano 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 Con le emozioni Lanciamelo Lanciamelo Dai Marcus E' tua Non posso urlare Non posso urlare Però se insegno Urlo Palo Non ci credo Non ci credo E' mano Come mano mia Bravissimo Varane Numero 1 Intervento divino Lancialo Lancialo Cazzo Antoni Posso fare il go della merda Ma non fa niente Va Antoni Fa di nuovo Fa di nuovo lui E sono 3 raga 3 a 0 3 a 0 Non ci credo Non ci credo Sto sognando Sto sognando Cazzo Dai raga Che sofferenza E siamo solo I quarti di finale Ragazzi Siamo solo i quarti Che sofferenza 3 a 0 Totale 9 a 6 Non me lo ricordo 8 a 6 Mamma mia E si parte Ritorniamo Secondo tempo Di questi quarti di finale Contro il Dortmund Un primo tempo Direi Dominato Ragazzi Ragazzi Mi si è rotto Casemiro Dal nulla Ma cosa vuol dire Sta entrando Royce Eccolo Ragazzi Ce l'hanno Ce l'hanno Marcolino Royce Una Una bandiera Del Dortmund Una leggenda Mamma mia Dai Lancialo Mamma mia Bellingham Questa me la devi portare a casa Cazzo Me la devi portare a casa Ma tira di destro Ma non è possibile Perché tirano di sinistro Ragazzi Ogni volta così Mi sbagliano il passaggio Il tiro Mano Ragazzi C'è la mano C'è il fallo di mano Non lo so manco io Dov'è Arbitro Dov'è Me lo faccio ripetere Per favore Dov'è Il fallo di mano Eee Tutto Pieno Minchia Rashford Ragazzi Le sto sbagliando Vado a centrale Vado a centrale Ragazzi Perdo la voce di nuovo E anche la gola Fammela di nuovo Questo ballettino Fammelo Alla Jamorent Alla Jamorent Mamma mia Fammelo Raga Rigore calciato Alla perfezione Alla perfezione Lo spiazza Lo spiazza Guarda il sorrisino di Marcos Guardalo Contento No Devo togliere a casa di Milo Ragazzi Ok ci siamo Ragazzi Ho fatto i cambi Ho tolto Tutta la parte offensiva Praticamente Come al solito Abbiamo messo anche Adie Iemi Lex Vediamo un attimino Se riesce a farci Riesce a fare un gol La sua vecchia squadra Che poi all'andata Gliel'ha fatto anche ragazzi No Madonna De Gea Oggi mi sta salvando Che errori stupidi Banali proprio Stiamo addormentando Ragazzi Forse stiamo sognando Stiamo sognando Ad occhi aperti Adesso sono solo tre gol Che trova spazio Anche in Europa League Guardalo Non ci credo Ragazzi Non ci credo Cazzo Che parata Che mi ha fatto Che palla Gravenber Ce l'ha messo Ragazzi Pensavo fosse gol Ero easy Tranquillo No Sì No vabbè ragazzi Non ci credo Ma che gol Ma come Come ha segnato Varane Ragazzi L'ha presa il portiere Ma l'ha presa male A parte che qua Me l'hanno spinto Guarda Stava cadendo Poi si è rialzato Il portiere Non c'è Vabbè ragazzi Il portiere Scandaloso Ogni anno FIFA migliore portieri Grande FIFA Continua Anche su EA Sport FC24 Fammeli così Anzi Saranno così Come i trailer Fanno vedere Ma non fa niente Tanto ci sono sempre I piccoli Fan Che comprano il gioco Perché non hanno altro A cui giocare Complimenti Cazzo No Non era rigore Ma perché Non la butto Questa cazzo Di palla Buttala via Cristo Vabbè Quanto è 10 a 6 Vabbè Anche se segnalo Non fa niente Però A sinistra Minchia Mi ha fatto il cucchiaio Raga Mi ha fatto il cucchiaio Aller E lui Ci posso credere Ragazzi E vabbè Questa cazzo L'ha passata 5 a 1 Raga Non fa niente Dai Ehi Mi ha rotto i coglioni Arbitro E cazzo Ogni volta E fallo Di mano E cazzo Lina Ma che cazzo Mi ha tolto Dai gara Raga Assurdo Guarda Di nuovo Io la sbatto fuori Qua raga Buttala Buttala Vai Vabbè Non fa niente Buttala fuori Vai Raga Finita È finita Andiamo in semifinale Andiamo in semifinale Andiamo in semifinale Cazzo Che rimonta 5 a 1 Mamma mia Claudio Ragnini Ha fatto la magia Ha fatto la magia Ragazzi L'ha fatta Complimenti al tecnico Ai giocatori Bravo Bravo Lele Mamma mia Doppietta di Rashford Ragazzi 5 a 1 10 a 7 Risultato finale Complimenti Bravissimi ragazzi Bravissimi L'abbiamo giocata L'abbiamo giocata Alla perfezione Proprio Perfetti Non abbiamo sbagliato Da nessun punto di vista Complimenti Vediamo chi è passato Arsenal Juve 1 a 1 Il Chelsea Sono andati a rigori Ha vinto Non ci credo Passa la Juve Passa il Chelsea Passa il Braga Quindi troveremo il Braga In semifinale Raga Contro poi la sfidante Di Juve Chelsea No vabbè ragazzi No vabbè ragazzi Non ci credo Non ci posso credere Cosa? No ragazzi Casemiro Frattura Dito del piede Tre mesi Senza Casemiro Raga Ma che cazzo Ma come si è fatto male Ma come? Raga Tre mesi Senza Casemiro No ragazzi Non è possibile Non è possibile Questa è la classifica 83 punti 76 Liverpool Secondo Newcastle è terzo Il City è quarto Dobbiamo vincere Dobbiamo vincere assolutamente E prendere di stacco Da Liverpool ragazzi Dobbiamo Dobbiamo farlo Sono sette punti Sono sette punti Sono vicinissimi Mamma mia ragazzi Si fa sempre più intenso Si fa sempre più intensa Voglio vedere il calendario Perché abbiamo Il derby di Manchester Poi abbiamo Il Leicester In campionato Abbiamo La Coppa FK Se non sbaglio E poi La Juve Come? Non trova più il Braga? Raga La Juve In semifinale Di Europa Lì Raga Gli spondiamo il culo A questi Juventini Di merda Gli spondiamo Cazzo Gli spondiamo male Raga Mamma mia Che partite Va bene Vi porterò la Coppa Adesso dobbiamo vedere Che Coppa è Raga La porto Poi Si vada di Premier League Di Europa League Scusatemi Andate e ritorno E poi ci facciamo L'Arsenal In campionato Assolutamente E poi vediamo Raga Poi è finito Poi è finito il campionato È finito Ok ragazzi Allora siamo per finire Ci siamo Ci siamo quasi Adesso ci andremo a giocare Il derby di Manchester In campionato In Premier Sperando di vincere E prenderci tre punti Fondamentali Per avvicinarci Sempre di più Alla vittoria Dello Scudetto Niente ragazzi Io vi do appuntamento Nel prossimo episodio Ricordo sempre Di iscrivervi al canale Lasciate un like Un commento E nulla Ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao Uuuuuh